Seconda edizione di Pesaro Challenge, Mettiti in gioco, è un'edizione tutta da scoprire, tre giorni con una location tutta nuova perché saremo in Piazzale della Libertà, Palla di Pomodoro a Pesaro, occupando anche il Nazario Sauro, Cristoforo Colombo, ma alcune attività si svolgeranno in Baia Flaminia dove abbiamo concentrato principalmente le attività in mare, quindi nuoto, canoa, vela, sup, saranno delle attività da scoprire alle quali si potrà partecipare perché libere e aperte a tutti, ovviamente alcune iscrizioni che sono partite per tempo per poter realizzare le competizioni e le gare. Dalla Baia Flaminia partirà anche il trekking sul San Bartolo che è un'attività organizzata dalla Palla Rotonda e da Alfa, una cooperativa sociale e soprattutto partirà verso la Palla di Pomodoro il Plugging Race, appunto la competizione sportiva dove si corre e si raccolgono rifiuti, perché questa seconda manifestazione ha anche un taglio nel rispetto dell'ambiente e abbiamo voluto farlo con un gesto concreto, reale, portando, sensibilizzando anche gli sportivi, oltre che la cittadinanza. E' previsto l'arrivo degli sportivi del Plugging Race alla Palla di Pomodoro alle 10 circa, non daremo tanto tempo in più perché ogni minuto in più sarà penalizzato, però troveranno anche i cittadini che invece da quel momento in poi partiranno per l'urban plugging, quindi raccolta di rifiuti con una bella passeggiata domenicale per poi ritrovarsi e godere i saluti istituzionali, godere le premiazioni degli atleti e così via. La nostra manifestazione quest'anno ha un'impronta decisamente diversa dalla prima edizione. Abbiamo aperto per esempio le attività cinofile per il nostro amore verso i cani, quindi ci saranno alcune attività tra cui venerdì la sfilata dei cani alle 21 e poi proseguirà con una passeggiata a sei zampe con Dog Challenge, delle sfide tra cani e padroni. Avremo anche delle serate di intrattenimento per cui ci sarà una serata di balli da sala e un'altra di balli di gruppo all'interno del secondo festival di balli di gruppo. Abbiamo anche un mini torneo di volley che verranno allestiti quattro campi di mini volley all'interno della manifestazione proprio alla palla di pomodoro dove si svolgerà questo primo torneo di volley. Inoltre abbiamo il nostro sponsor Decathlon che allestirà delle aree dove ci saranno dei campi polivalenti per diverse discipline. Vi aspettiamo tutti per conoscerli insieme a voi e per vivere questi tre giorni in modo sereno, divertente e soprattutto sportivo.